Allora, tu ero niente, lui vanno tre vicine, altrimenti si è alzata, quindi lui è più l'orista, è più l'orista, quindi lui è più l'orista, è più l'orista, è più l'orista, è più l'orista. Ma hai visto che era la vita, ma adesso vai dai mondiali? Ah, Federico! Eh, la popolarità, ma no? Dai, cazzo! Sesta serie, 50 da Namasky, alla partenza, Corsia 1, Marin Matteo, Corsia 2, Vidal Alessandro, Jesu Sporting Club, Corsia 3, Berluzzi Armato, voto Vicenza, Corsia 4...